Diventa reporter di e-news, invia il tuo video tramite whatsapp o via mail alla redazione di Faninforma. Sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Pesaro due magrebini accusati di aver incendiato un capanno in via Mirabelli a Pesaro alle 21.45 di ieri sera. La struttura, di proprietà di un'agenzia immobiliare fanese, conteneva vernici, solventi e materiali altamente infiammabili. I due uomini sono stati rintracciati grazie alla testimonianza di una persona che per caso ha assistito a tutta la scena. Sul posto, oltre ai poliziotti, anche i vigili del fuoco di Pesaro, che sono riusciti a spegnere le fiamme intorno alle 2 di questa mattina. Si è presentata questa mattina alla città la lista dell'Udc, che correrà alle prossime amministrative. Del gruppo fanno parte 12 donne e 12 uomini e il capolista è Pierino Cecchi, che in caso di rielezione ha posto come i suoi primi obiettivi quelli di riproporre i comitati di quartiere e concentrarsi sul tema del lavoro. Il candidato più giovane della lista è la 21enne Giorgia Chiara Baldarelli. La cosa giusta, lista civica di Mirko Carloni scalda i motori presentandosi alla città. Capolista del gruppo è la 32enne fanese Mariana Magrini. Tutti i candidati hanno detto di essere mossi dal desiderio di cambiare Fano. Mirko Carloni ha poi ribadito che l'obiettivo è quello di guardare al futuro, sottolineando l'importanza di un rilancio della città. Non solo buche nelle strade, ma anche pavimentazione precaria sui marciapiedi. Questa mattina una moldava di 38 anni, che stava raggiungendo la fermata degli autobus al Pincio, ha rischiato di fare una brutta caduta a causa di una piastrella ballerina. Fortunatamente la donna non ha perso l'equilibrio e, da brava cittadina, ha cercato di sistemare alla meglio la pavimentazione. Il video ci è stato inviato da Stefano78. Grazie a tutti.